Elio Di Ruppo conquista il web. Il video del premier belga che bacia un attore travestito da donna sta facendo il giro della rete. Era stato invitato in un programma televisivo per consegnare un premio, quando il comico Stani Kret lo ha baciato su De Labbra. Di Ruppo è il primo leader europeo ad aver ammesso la propria omosessualità.